ciao ragazzi quest'oggi parliamo delle basi del sim racing allora ragazzi senza nessuna pretesa è basato sulla mia esperienza oggi voglio affrontare degli argomenti che per chi fa sim racing da tanto sembreranno argomenti scontati ma siccome come dicevo nel video precedente in cui parlavo delle bandiere nel salotto del sim racing abbiamo sempre più richieste di video che spiegano il comportamento eccetera eccetera quindi niente continuiamo con questi video allora tu che sei un esperto di sim racing ti invito a continuare a guardare questo video così magari potrai darmi nei commenti dei suggerimenti su quali argomenti potrebbero essere utili o magari arricchire questi contenuti darmi suggerimenti e soprattutto nel caso in cui io faccia degli errori mi potrei correggere e ti sono già grado anticipatamente per questo veniamo a noi ragazzi partiamo veramente dalle basi entro nel simulatore e mi ritrovo nei box cosa sono i box ragazzi i box sono una specie di quartier generale in cui ogni pilota team ha un box interno coperto dove si può occupare della macchina le regolazioni le riparazioni eccetera e davanti solitamente a questi box è presente una piazzola questa piazzola dà la possibilità di effettuare quelle operazioni tali come il rifornimento il cambio gomme e a volte anche sistemare l'auto quando è possibile per far ripartire il pilota in pista la corsia dei box è regolamentata per una questione di sicurezza da delle regole fondamentali la prima è che vige sempre e comunque un limite di velocità nel sim racing ci viene incontro l'automatismo cioè se io premo un pulsante che ho precedentemente impostato come pit limiter quindi limitatore nei pit allora automaticamente la macchina posso prestare quanto voglio l'acceleratore non andrà oltre a quel quella velocità quindi vige un limite di velocità e soprattutto vige anche la regola del non si può sorpassare la terza regola è che devo viaggiare sul lato sinistro se vado sulla destra quindi non sulle piazzole o sul lato destro se la pista è sinistrorse perché bisogna immaginare questa corsia dei box divise in due corsie una dedicata se io vado a destra a sinistra per circolare quindi uscire o a entrare ai box e l'altra parte la parte della piazzola quello che vi spiegavo dove si fanno le operazioni e quindi è vietato andare lì non si fa se invece esco a sinistra sarò completamente a destra e perché magari l'uscita del circuit tipo donnington si esce a sinistra imola si esce a destra quindi se esco a sinistra donnington rimarrò sulla mia destra le piazzole le devo sempre lasciare libere oltretutto perché ragazzi se uscite dai box e c'è ci sono macchine nelle piazzole che fai gli va addosso un'altra regola è quella che io prima di uscire dei box se devo andare a destra guarda a sinistra perché è vero che l'ingegnere mi dice passa 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 ma molte volte l'ingegnere dice passa ma stanno arrivando comunque auto e invece se esco sulla sinistra devo guardare a destra ok ci sono i pulsanti per guardare a destra a sinistra quindi è importante perché ci sono dei simulatori che vi lasciano il ghost delle auto cioè ci passiamo in mezzo è super simulativo e ci sono altri simulatori invece che non c'è il ghost quindi picchi e fai danni quindi queste sono le regole un'altra regola che molti non sanno e bisogna dirlo perché quante volte dico stop and go ma no ho preso un drive through quando arrivate in prossimità dell'uscita dei box c'è sempre un semaforo se è rosso dovete fermarvi non dovete superare la linea vi dovete fermare e oltretutto c'è anche il segno fine della limitazione di velocità che indica pure quant'è il limite la quindi se è rosso fermatevi se è verde potete andare un'altra regola per uscire dai box e che c'è sempre una linea che accompagna i box per almeno 100 200 300 metri non dovete superarla perché quello è un muro virtuale che non va super super e come le strisce zebrate nella vita reale non normalmente non si può andare lì sopra bene questo considerate che non ci potete andare perché in alcuni titoli se superate quella linea venite sanzionati nella vita reale siete sanzionati se fate un campionato privato vi sanzionano perché sempre per una questione di sicurezza ragazzi quella linea indica virtualmente una corsia da seguire in modo tale da mantenere una certa sicurezza di quelli che stanno arrivando a bomba dietro perché voi uscite dei box a cannone ma siete a 150 200 questi arrivano a 300 quindi per evitare che vi mettiate sulla pista in modo repentino così e tagliate alla cazzo di cane c'è questa linea da seguire quindi la regola è seguire quella linea quando si entra in box uguale c'è una linea che va rispettata anche se i commissari di gara e i sistemi in generale sono più tolleranti perché c'è meno pericolo perché diciamo che non si esce dai box al contrario ovviamente e quando ci si immette al tutt'al più potrebbe arrivare uno cioè sono un po più tolleranti ma la regola è quella di rimanere nelle linee bianche e di entrare nei box al massimo al limite della velocità se 50 dovete entrare a 50 nella simulazione di guida ragazzi non entrate come in console a 180 all'ora premete si mette il limitatore automatico e la macchina si ferma improvvisamente no bisogna rallentare prima per portare la velocità dell'auto a quella indicata massima e si attiva il pit limiter la bravura è cercarsi e cercare di avvicinarsi il più possibile alla linea dei box e attivare il pit limiter alla velocità massima consentita lì è la bravura ma non è che entrate a bomba mettete il limitatore ovviamente come fa a fermarsi una macchina a 300 all'ora è a 50 parlato dei box della pit lane delle piazzole del vostro garage delle regole fondamentali per la sicurezza vediamo una cosa che forse nessuno spiega cosa è la pista o meglio cosa definisce la pista la pista è quel lembo di asfalto delimitato da due linee bianche parallele che non si incontrano mai ok queste linee definiscono il limite massimo della pista oltre al quale se tu pilota ci metti quattro o tre ruote viene considerato taglio ovviamente nelle curve nelle chicane sento già le voci fabbri ma il cordolo è pista e qui la risposta è dipende se il cordolo è dentro queste litie famose allora è considerato pista ma siccome 9,9 periodico sono sempre all'esterno il cordolo solitamente non è pista quindi cosa vuol dire vuol dire che è quindi non posso sfruttarlo certo che puoi sfruttarlo ci puoi mettere massimo due ruote o comunque stare all'interno della pista con due ruote quindi se sei bravo al millimetro e passi sopra la linea puoi sfruttare tutto il cordolo che vuoi ma se esci fuori viene considerato taglio nel sim racing come viene gestito il taglio prendiamo esempio il track limit di r factor 2 che mi piace tanto si basa su una valutazione in base a degli aspetti il primo il comportamento del pilota se il pilota fa un taglio diciamo di una certa importanza c'è una valutazione che viene fatta immediatamente sul delta hai alzato il piede no stai guadagnando un secondo si taglio ok oppure fa una valutazione sulla gravità del taglio e l'incidenza che ha quel taglio sul guadagno meno sempre sul tempo quindi a volte dice vabbè non ha influenza hai alzato il piede non vale la pena sanzionarti e quindi non succede nulla altre volte invece in base alla gravità e gli effetti che ha il tuo taglio sul tuo delta può infliggere dei punti che vanno da decimali cioè 0 25 0 50 per punire diciamo in modo lieve un taglio a dei punteggi tipo 2,25 per un massimo di 4.00 quindi pensate 2.25 su un taglio devo fare attenzione soprattutto se le gare sono lunghe in ogni caso quando cade una sanzione il giro viene annullato questo è come funziona refactor 2 poi ragazzi servirebbe un video per ogni singolo simulatore però era solo per affrontare il discorso del taglio parlando di limiti di pista è importante parlare anche e di eventuali uscite di pista che sia colpa vostra o meno se uscite fuori di pista dovete dovete tenere in considerazione che non avete più il diritto ok di precedenza in pista e quindi di conseguenza è come se vi trovaste a ad uno stop prima di rientrare in pista bisogna considerare anche un metodo safe un metodo di rientro in sicurezza infatti avrete già sentito quello lì non ha fatto oppure ha fatto un rientro safe cioè rientrare in sicurezza in pista il concetto è molto semplice ragazzi per rientrare in pista è come quando state entrando in una strada principale e quindi siete in una corsia di accelerazione non è chiaro che entrate in modo trasversale e vado nelle corsi dove voglio prima di mettersi in un'autostrada si passa da una corsia di accelerazione e spero che lo facciate mi assicuro che non c'è nessuno che sta arrivando se no alzo il piede mi fermo se è necessario perché chi è in pista quindi in autostrada quindi in pista ha il diritto su di voi non è che io gas a martello e vado tutto in sicurezza ovviamente se sto rientrando su un rettifilo e sono in sicurezza ovviamente posso riprendere ma pensate nelle condizioni di una curva oppure siete in uscita di curva in un posto pericolosissimo ma che potete tagliare così la pista quindi il rientro safe è quello rientro parallelo alla pista mi assicuro che non sta arrivando nessuno e nel caso dovesse arrivare qualcuno lo lascio sfilare ragazzi è difficile metabolizzare sta cosa ma come io perdo le tu perdi le posizioni perché non devi creare un incidente sull'incidente perché chi sta arrivando perché dovrebbe pagare le colpe di un altro o la tua e quindi sei responsabile della tua sicurezza e quella degli altri in pista quindi quando rientri fallo come se ti stessi immettendo in un'autostrada cioè io vorrei vedere come mi mettete in un'autostrada in pista io vedo delle cose mostruose quindi ragazzi io concluderei con un'altra cosa che è molto importante che poi introdurrà sicuramente un altro video al quale ci tengo particolarmente parliamo del cambio di traiettoria allora il cambio di traiettoria ragazzi è quella azione che fate quando qualcuno vi vuole superare ok e voi a me mi superi faccio un primo cambio di traiettoria così mi difendo vi faccio un esempio concreto state uscendo dall'ultima curva di barcellona se non conoscete barcellona andate a vederla sta pista quest'ultima curva che è abbastanza veloce ok quando uscite la traiettoria ideale è quella di stare completamente sulla sinistra e andare a sfruttare il cordolo che c'è sulla sinistra per poi continuare su questo lungo rettifilo benissimo quando uscite di lì se qualcuno sta uscendo più forte di voi più la scia si sposta sulla vostra destra ok potete fare un solo cambio di traiettoria sulla destra per difendervi non potete più rispostarvi sulla sinistra questo si un solo cambio di traiettoria se chi vi attacca riesce ad affiancarvi non potete spostarvi oltretutto evitate l'incidente l'unica cosa che è concessa in questo caso qua specifica oltretutto siccome la curva successiva è sulla destra potete rientrare durante la fase di frenata un attimino verso la traiettoria ma senza fare completamente cioè rientrate un pochettino per agevolarvi poi la curva ovviamente se il vostro avversario non vi ha già affiancato se vi ha già affiancato non potete perché comunque siete nell'obbligo di lasciare spazio mi fermo qui ragazzi spero che il concetto del cambio di traiettoria sia stato chiaro se no possiamo approfondirlo perché questo come dicevo è l'anticipo di quello che sarà molto probabilmente il prossimo video l'arte del sorpasso del quale io ho già fatto un video che vi invito ad andare a guardare ma che ho veramente voglia di approfondire perché il sorpasso è il momento in cui succedono tutti i casini del sim racing più o meno le prime curve tutte queste robe qua che ho ad esempio le strategie di gara la gestione dei tempi ci sono tanti argomenti che magari molti principianti non conoscono proprio per per mancanza di esperienze quindi perché non discutere di questo quindi ragazzi come al solito se questo video vi è piaciuto se avete bisogno di approfondimenti o ho detto qualcosa che non va ragazzi scrivetelo qui nei commenti lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao ciao